Presidente Vito Tisci, quest'oggi qui al Miramare di Manfredonia per questa gara, bellissima gara tra l'altro, tra due formazioni e un derby giocato bene da entrambe le parti, Ortanova un po' sfortunato, Manfredonia che con questa vittoria consolida la classifica. Che domenica è stata per il Presidente Tisci? La giusta analisi, il Manfredonia con questa vittoria, la forza della sua classifica, devo essere sincero, è stata una bella partita, l'Ortanova non metterà di perda, ha avuto più volte la possibilità di pareggiare, sia il primo tempo sull'1-0 che sull'2-1. Purtroppo il calcio è così, ma ha preso due legni, bisogna accettare il risultato del campo. Questa mia presenza a Manfredonia rientra in un percorso che sto andando a vedere tutte le squadre da quando abbiamo ripreso per star vicino, soprattutto per vedere se applicano il protocollo previsto, ringraziare anche le società che in un periodo di pandemia hanno moltiplicato i loro sforzi per poter dare continuità al calcio, poter ripartire in sicurezza. Due società ambiziose, Manfredonia che addirittura sta programmando per un investimento qui sulla struttura e per un futuro davvero ad alti livelli. Ortanova che si sta facendo valere anche con un mercato estero, se ne parla molto in Spagna con dei giocatori davvero interessanti, però dall'altra parte c'è un problema a campo, Ortanova è costretto a emigrare, società che ogni tanto devono confrontarsi anche con queste problematiche. Conosco bene la situazione dell'Ortanova, conosco bene la passione e l'entusiasmo di Mariano Tarantino, è una squadra giovane, ho visto anche delle belle individualità, ragazzi che vengono da altre nazioni, però devo dire una squadra che oggi mi ha impressionato più del Manfredonia, perché era ben messa in campo, era molto brava, molto forte nelle ripartenze, come dicevo prima, sono andati vicino al pareggio in diverse occasioni, per me ha disperato una grande gara, se poi valutiamo anche le due erose dei calciatori, ma non è partito a vincere il campionato, ci credo, hanno una società forte alle spalle, l'Ortanova credo che è partito per valorizzare il gioco e fare un buon campionato, è cosa che sta facendo. Ecco, un derby che conferma la crescita del calcio in provincia di Foggia, con sei squadre in astri di partenza d'eccellenza quest'anno, e quindi un percorso importante anche per una provincia che era un po' in ritardo rispetto alle altre in Puglia. Sì, la provincia di Foggia negli ultimi anni mancava una presenza nutrita, è stata anche agevolata dalla formazione del doppio giro, ma ci sono belle realtà, società che hanno un blasone, ricordo Sansevero, lo stesso Manfredonia, così come ci sono società che sono approdate la prima volta in eccellenza, come il San Marco, Real City, belle realtà, oltre all'Ortanova che ormai è una realtà consolidata nel panorama foggiano. Mister Ruffini, Manfredonia che vince ancora e vuole in vetta alla classifica, alla vigilia aveva parlato però chiaro Mister Ruffini, aveva chiesto massima attenzione ai suoi perché l'Ortanova avrebbe giocato una gran gara, così è stato, comunque un Manfredonia che resta capolista. Sì, sicuramente, avevo studiato le ultime partite dell'Ortanova e avevo notato una squadra spigliata, una squadra aggressiva, una squadra che attacca bene gli spazi, una squadra ben organizzata che però magari concedeva qualcosa sulla profondità, da lì la mia scelta di iniziare subito con tre attaccanti in maniera tale da sfruttare la profondità che mi veniva concessa con il loro pressing alto, con la loro pressione alta. La partita si era incanalata proprio come volevo io, con il 2-0 era un risultato che mi metteva al sicuro e mi poteva permettere di gestire il secondo tempo nel migliore dei modi, centellinando anche le forze vista la precaria condizione atletica di molti dei ragazzi dopo questi cinque mesi di stop. Purtroppo il gol del 2-1 che hanno fatto nell'ultimo minuto del primo tempo su calcio piazzato ha cambiato e stravolto un po' i miei piani, quindi ho dovuto tenere in campo ancora i tre attaccanti per non concedere campo all'Ortanova, seppur non erano più in condizione di poter ripartire come io volevo. Però hanno stretto i denti finché hanno potuto, poi dopo con i cambi ho cercato di sistemare facendo una squadra di ripartenza. In un paio di ripartenze non abbiamo chiuso la partita, quindi alla fine come si dice, quando la partita non la puoi chiudere non la devi più lasciare andare. Quindi ho cercato di contenere il 2-1, loro hanno creato tante mischie su delle rimesse laterali perché avevo un ragazzo che ha una rimessa lunga notevole e quindi non essendoci fuori gioco sulle rimesse laterali mi costringeva ad abbassarmi fino all'area piccola del portiere e quindi sulle seconde palle potevo perdere qualcosa, però occasioni non ne hanno avuta hanno creato solamente queste situazioni di confusione e con qualche calcio di punizione ci hanno impensierito, però al di là dei calci piazzati sul piano del gioco abbiamo tenuto bene il campo abbiamo detto bene, naturalmente non siamo stati la squadra dei primi cinque mesi che ha tenuto il pallino del gioco per tutta la gara, l'abbiamo fatto per un tempo e poi dopo abbiamo scelto di proposito di chiuderci e ripartire. Abbiamo sofferto senza dubbio, ma l'Orta 9 è una squadra che aveva sei punti che aveva perso di misura col Corato immeritatamente per i video che ho visto quindi devo dire che è vero che potevo essere più soddisfatto se avessimo chiuso la partita prima e non avessimo preso il 2-1, però è anche vero che di fronte avevamo una buona squadra fastidiosa. Ecco, mister Ruffini sa come si vince il campionato di eccellenza Manfredonia è una piazza importante, forse è stata un po' sottovalutata all'inizio del campionato ma è una squadra che può davvero fare il grande salto? Noi ragioniamo partita dopo partita, è vero che all'inizio mi era stato prospettato dalla società un campionato di transizione, un campionato tranquillo dove raggiungere una salvezza senza soffrire era l'obiettivo principale. Il mio modo di pensare, il mio modo di fare non mi porta a pensare in piccolo tra virgolette, perché l'umiltà mi contraddistingue però ho anche una grande ambizione e sono cosciente che col lavoro si può sopperire magari a dei limiti che si hanno tecnico-tattici. Siamo riusciti a lavorare e grazie anche, la società mi ha concesso la facoltà insieme al direttore di prendere i calciatori che avevo già avuto, quindi siamo stati facilitati nell'assimilazione di quelli che erano i miei concetti. Siamo partiti subito forti, abbiamo fatto prima dell'introduzione un campionato strepitoso, eravamo nel pieno della forma sia fisica che psichica e psicologica. Purtroppo poi l'interruzione ci ha un po' tagliato le gambe e adesso ne stiamo pagando le conseguenze e come detto prima l'esperienza mi porta a dire che adesso bisogna giocare per il risultato perché se prima non avevamo un obiettivo fisso, che bastava fare bene, adesso siamo lì sopra e cerchiamo di prenderci tutto il vantaggio possibile per raggiungere una delle prime quattro posizioni che ci permetteranno di disputare dei play-off, che sarebbe un grande risultato visto le intenzioni di inizio campionato. Quindi adesso c'erano partita dopo partita, c'erano sempre per vincere, quindi a costo di diventare bruttini qualche partita però mi interessa il risultato finale. Siamo a 16 punti, abbiamo fatto 5 vittorie e un pareggio di più penso che non potrei chiedere a questa squadra. Mister Carbone, grande prestazione dell'Ortanova, ancora meglio di domenica scorsa, oggi davvero contro la capolista si è vista davvero una grande formazione in campo, forse la miglior partita dell'anno di questa squadra, che non è riuscita solo per un po' di sfortuna forse a raccogliere quel che avrebbe meritato sul campo. Sì, sì, la squadra ha impressionato anche me ed è un grande peccato, dobbiamo essere bravi a dare un senso a questa sconfitta perché per quello che si è visto in campo è una sconfitta senza senso dal punto di vista proprio di quella che è stata l'andamento della gara. Graziano ha giocato un primo tempo tecnicamente fantastico, fantastico, non uso questo termine a sproposito. Nel secondo tempo siamo calati di condizione, come è normale che sia, ma abbiamo impegnato, abbiamo trovato il modo di variare il gioco e di impegnare ancora una volta l'Eucci. L'Eucci penso che lo sogneremo anche stanotte perché ha fatto degli interventi clamorosi. La squadra ha preso due pali, non so cos'altro avrebbe potuto proporre in campo. Oggi dobbiamo essere bravi a consapevolizzarci da questa sconfitta perché vuol dire che la strada è questa, ma dobbiamo essere bravi anche a fortificarci da una sconfitta che penso sia gravemente, gravemente, gravemente immeritata. Una sconfitta che comunque lascia un percorso importante per questa squadra, soprattutto nella testa, perché inizia forse a credere nelle proprie potenzialità ed è quello che chiede il mister Carbone a questa squadra. Assolutamente, assolutamente. Per noi è un onore, è un orgoglio giocare contro avversari di questa caratura. Il fatto che sono usciti dal campo, diciamo così, preoccupati, deve darci orgoglio. I ragazzi sanno che la nostra fame, unita a quello che è il gioco, l'organizzazione, passa tutto da un percorso di crescita che stiamo cercando e devo dire ottenendo, al di là di questi risultati che continuano a voltarci le spalle, così come domenica scorsa, dove ancora non ci è andata giù la sconfitta. Ed è questo quello che dobbiamo continuare a fare. Penso che è sotto gli occhi di tutti che, continuando così, questa squadra è destinata a raccogliere. Il cammino è ancora complicato per questa squadra. Adesso arriva il Barletta domenica prossima. Nel frattempo c'è anche l'importunio di Hernandez Perez. In che condizioni sarà la squadra per la gara di domenica? Queste squadre sono chiamate, dopo una preparazione frettolosa, a scendere in campo e dare il massimo livello dello scontro. Quindi quelle che prima erano le amichevoli che servivano a preparare gare più importanti sono diventate le gare immediatamente contro Corato, contro Manfredonia. Questo significa che purtroppo i muscoli sono sollecitati in maniera importante. Sapevamo, avevamo messo in conto che così come altre squadre, come quasi tutte le altre squadre, ci sarebbero stati questi inconvenienti. Noi non abbiamo, oggi c'erano tanti assenti, Luca, nessuno se ne è accorto. Oggi c'erano tanti assenti, li recupereremo, ma siamo venuti qui e nessuno si è accorto di questo. Conta questo. Con il DS Dario Di Giacomo, l'Ortanova ha sfortunato quest'oggi, davvero forse la miglior prestazione di questa squadra quest'anno. Grande prestazione nei confronti della capolista. Peccato non è arrivato il pari, un pari che sarebbe stato anche meritato, ma comunque resta una grande prestazione di questa squadra. Sì, grandissima prestazione, come dicevi, Luca, dell'Ortanova, con grande carattere, fuori casa, in trasferta, contro una squadra che non perde in casa da tre anni, una corazzata. Però noi abbiamo veramente dettato i tempi del gioco, soprattutto dopo il gol subito, che anche vorrei rivedere, perché a me sembrava morra, sembrava in fuorigioco, però nel caso sono cose che possono capitare. Ma l'Ortanova è stato davvero sfortunato. la traversa di Didedda, la doppia traversa di Antonio, un gran tiro, il palo su parata del portiere di Nicola Di Francesco, poi l'ultima azione, prima Lombardi e poi Monopoli, che ha avuto sulla testa il pareggio con una paratona del portiere, però certo in quei casi ci vuole anche un po' di fortuna. Mi dispiace essere qui a commentare una sconfitta dal punto di vista del punteggio, però sono contento perché stiamo davvero costruendo una bella squadra. Squadra giovane, una squadra con grande carattere, che gioca fino alla fine, che viene in campi difficilissimi a dettare il proprio gioco. Quindi davvero i complimenti alla squadra e al mister, lo dico senza falsa retorica. Stiamo costruendo qualcosa di importante, ci vuole tempo e ci vuole un po' di fortuna. Due belle prestazioni contro due squadre importanti, adesso ne arriva una terza, il Barletta, però un'Ortanova che è sempre lì e che potrebbe puntare i play-off. E noi siamo lì, noi ogni partita cerchiamo di dare il massimo per vincere, noi non andiamo sui campi per pareggiare o per non prendere imbarcate. Siamo venuti qui con la difesa alta, a giocare aperti, abbiamo giocato in casa col Corato allo stesso modo. Noi giochiamo per vincere contro chiunque avversario. Questo è il nostro diktat, quello della società, del presidente, del mister. Se fossimo riusciti a fare due punti in queste due partite, sicuramente i play-off erano molto alla portata. Decidiamo, noi lottiamo tutte le partite e poi alla fine tireremo le somme. Noi adesso stiamo costruendo per il futuro, però se arriva già qualcosa in questa stagione ci faremo trovare pronti.